Successo di pubblico e applausi scroscianti al termine dello spettacolo Botanica. Più di mille persone hanno gradito la relazione tra musica e scienza per raccontare con suoni e parole le caratteristiche e i sentimenti dello straordinario mondo vegetale. Un viaggio sensoriale ideato da Aboka, azienda leader nei prodotti a base di sostanze naturali, con il collettivo The Producer e il professor Stefano Mancuso. Il 90% dei principi medicinali che usa l'uomo sono stati o scoperti nelle piante o copiati dalle piante. Ancora oggi noi probabilmente conosciamo meno del 50% delle specie presenti sul pianeta. Allora c'è da chiedersi che cosa ci sarà in quell'altro 50% che non conosciamo. Probabilmente la cura per qualunque malattia, probabilmente tanti nuovi alimenti, probabilmente nuove fibre tessili, nuove possibilità in tutti i campi della scienza. Per lo spettacolo, andato in scena al teatro dal verme, lo scienziato ha voluto che ad accompagnarlo musicalmente fossero i The Producer. Lo dovete fare con noi, con me questo progetto, assolutamente, perché mi sembra bellissimo e se non lo fate con me io ve lo impedirò in tutte le maniere. Simpaticamente ci siamo conosciuti e sull'onda di questo entusiasmo abbiamo cominciato a pensare a come realizzarlo. Smuovere le coscienze fin da bambini per aumentare la consapevolezza di quanto siano importanti questi esseri viventi. Io vorrei che i genitori spiegassero ai figli, devono evitare per esempio di strappare le foglie, di strappare i rametti, devono capire fin da piccoli che grazie alle piante loro sono vivi.